Ciao, sono Samantha, maga di fama internazionale, ti faccio parire una colomba in meno di un secondo. Sono Natale, goloso di fama internazionale, ti faccio sparire un panettone in meno di un quarto d'ora. Che è? Sono due manette di cioccolato, cosa faccio? Una merendina al massimo? No, vabbè, ciccio, cosa vuoi? Yen, rubli, bitcoin? Ma non lo so, preferirei un buono pasto, non lo so. No, vabbè, sparisco. Ma sei ancora qua? Eh, non c'è campo. Sparisci allora, scusami. Eh, ok, non prendo. Vabbè, allora ti faccio sparire io. Grazie a tutti.